Sionofrio, grazie, buonasera a te e ai telespettatori del TG Web dell'Attacco. Parte da oggi il racconto del viaggio nei capoluoghi di regione che ci accingiamo a fare in questa terza stagione del nostro format, il viaggio nelle città che cambiano. La prima tappa, come abbiamo già avuto modo di dire, è Lecce e da oggi ne dico l'intervista Carlo Salvemini, il primo cittadino di Lecce che ci ha accolti a Palazzo Carafa raccontandoci di come la città si sta impegnando per ridisegnare un orizzonte nuovo, lui lo ha definito così, un orizzonte di futuro che si può intravedere solo se amministrati e amministratori rispondono a un patto, un patto tacito di partecipazione di accessibilità e questo è un po' lo sforzo che sta facendo Lecce attraverso vari esperimenti, come abbiamo avuto più volte modo di dire, quello che vogliamo fare in questo viaggio è anche cercare di importare modelli positivi. Ebbene, abbiamo potuto constatare, abbiamo potuto vedere, lo racconta il sindaco, lo leggerete domani in edicola attraverso altri esempi di questa partecipazione, di questa accessibilità, di come la comunità si stia muovendo davvero in questa direzione. Il Pug per esempio, straordinario esempio di strumento attraverso cui ridefinire i quartieri, ridefinire i servizi, ha visto tutta la città e gli amministratori impegnati in dieci incontri pubblici, uno di questi è quello a cui abbiamo partecipato, a cui eravamo anche noi a Lecce e di cui racconteremo domani sulle pagine del nostro giornale. Quindi seguiteci per tutta la settimana, ci saranno degli approfondimenti che in qualche modo andranno a raccontare non solo Lecce, non solo il cambiamento di questa città, ma anche tutto quello che possiamo fare nostro e cercare di utilizzare per crescere. Quindi l'appuntamento naturalmente per tutta la settimana è in edicola, sulle nostre pagine, nel nostro sito e poi alla fine il reportage video di questi giorni che abbiamo trascorso a Lecce. A te Onofrio.